Mancano medici specialisti, anche la SST Lecco fa i conti con il calo ormai cronico di figure professionale cardine nei reparti degli ospedali di Lecco e Merate. Una situazione che genera preoccupazioni e spesso falsi problemi. L'ultimo è quello relativo alla fuga di anestesisti e alla possibile chiusura dei reparti di neuro-rianimazione nei due poli ospedalieri. La verità come sempre sta nel mezzo. Il problema c'è, dichiara Paolo Favini, direttore generale della SST Lecco. Per quanto riguarda gli anestesisti, siamo chiamati a far fronte a nuove richieste di trasferimento. Abbiamo preso tutte le contromosse, tre figure saranno recuperate dalle graduatorie già stilate. Per le restanti apriremo un bando di mobilità. Infine verrà bandito un nuovo concorso. Gli anestesisti in servizio al Manzoni e Merate sono una settantina. Tamponare la fuga non sarà comunque facile. Non solo facciamo i conti con la concorrenza della sanità privata, prosegue Favini, ma anche con la mancanza di specialisti. La mala verità è che gli ospedali si rubano i medici disponibili. Non mancano gli studenti, ma le borse di studio per le specializzazioni è un problema che si sta verificando su diversi settori. Nei medici di base, negli anestesisti appunto, e presto succederà per i pediatri. In questo quadro si fa qualche si può. Regione Lombardia ha cercato di finanziare corsi di specializzazione. Anche la SST Lecco ha promosso corsi di formazione per i medici di base. Per quanto riguarda infine il problema degli anestesisti, i trasferimenti non avranno ripercussioni sul servizio. Come ogni anno, conclude Favini, in vista dell'estate ridurremo all'ecco il numero di posti letto del reparto di neuro-rianimazione da 6 a 4. Per questioni logistiche saranno accorpati a quelli del reparto di rianimazione. A Merate resteranno invece 4 posti letto. Questo assetto resterà in vigore fino a settembre. Grazie. Grazie.